Amedeo Ciaccheri, neo eletto presidente dell'ottavo municipio, sono tutti molto bravi a salire sul carro del vincitore, ma c'è qualcuno a cui deve la sua vittoria? La mia vittoria la debbo a tanti e tanti cittadini che nel corso di questo lungo anno di commissariamento si sono dati a fare in maniera estremamente generosa per costruire un progetto politico nuovo su un territorio ferito dal commissariamento amministrativo. Noi abbiamo investito il nostro progetto politico a partire da assemblee popolari e dalla costruzione di una lista civica che si è fatta forte di esperienze sociali che sul nostro territorio sono attive da anni e che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona attraverso dei propri rappresentanti per partecipare a una nuova lista civica di sinistra che si presentava per la prima volta in municipio aprendo la possibilità di costruire insieme alle forze politiche del territorio una coalizione più larga. Quello che mi porto dietro è la competenza acquisita in questi anni di lavoro in municipio ma soprattutto il portato di un progetto politico che non conta esclusivamente sulle mie energie ma su un investimento collettivo che la lista dei candidati superotto ma in generale tutta quanta la comunità politica che ha sostenuto questa sfida e la coalizione che ha vinto le elezioni lo scorso 10 giugno sarà insieme per costruire un processo nuovo per la città ma anche un processo collettivo che avrà me come portavoce principale ma che potrà contare su tante altre figure che continueranno dentro e fuori il municipio a essere attive per sostenere questo progetto. Il primo atto da Presidente? Tornare a essere presente sul territorio. Da un anno il commissariamento ci ha tolto la possibilità di avere un referente territoriale quindi sarà per noi prioritario tornare a discutere delle questioni del territorio sul territorio. Quindi investiremo su consigli municipali che siano di nuovo un momento d'attenzione per la nostra comunità territoriale e si svolgano anche fuori dal municipio, nelle piazze del nostro territorio per dare la possibilità a tutta la comunità di tornare a credere nelle istituzioni e tornare a credere che le istituzioni si occupano della comunità. Chiudiamo con una nota di colore. Il Presidente con due orecchini c'è chi storcia il naso. Questi orecchini rimarranno? Rimarranno, sono la mia storia, sono la mia storia che è fatta anche di un percorso personale e politico che ha camminato su tanti luoghi, in tante parti diverse, ha incontrato tante persone. La nostra campagna e la mia campagna è stata capace e ha voluto parlare a tante persone differenti, dalle parrocchie, ai centri sociali, dalle comitati di quartiere, agli imprenditori, ai commercianti, ai mercati rionali. Ha coinvolto veramente tante persone che appartengono anche a culture e storie differenti e questa capacità di mettere insieme tanti punti di vista differenti credo sia stato il valore aggiunto della campagna e quello che mi porto in dote con neoeletto candidato Presidente. Voi è Presidente del Municipio.